Bella regà, oggi mi provo dai miei zii Sono in un paesino di montagna, non so se si vedrà È un po' sera Spero si veda bene però, qua è molto luminoso Sono proprio in un paesino molto sperduto Sono un po' in vacanza, spero non mi cada l'iPad perché sennò sono veramente perduto E non lo sono qui perché Sono qui appunto C'è la ventola del bagno che si è rotta però Cioè guardate che bello Piccolo paesino di montagna Proprio easy Poi stava anche per piovere quindi proprio bello bello E nulla, volevo dirvi che noi ci vediamo presto, molto presto A un prossimo video E nulla Ciao ragazzi Ah regà, prima di lasciarvi andare volevo chiedervi Volete che io vi faccia un tutorial come risolvere il cubo? Mia zia in sottofondo, vabbè E se volete che vi aiuti, non lo so, a risolverlo, vi faccio un tutorial Fatemelo sapere con qualche mi piace Se arriviamo a 5 mi piace, ve lo porterò il primo possibile perché sono un po' stressato con i compiti Quindi vi aiuterò a risolvere un cubo Se riuscissi a fare una ripresa come si deve Perché io lo so risolvere Sono un po' un navro però Diciamo che me la cavo in un minuto e mezzo Dai, ci sta Col metodo a strati basilare, non il fredrich Però se questo cubo fosse messo giusto Spero che si veda perché la luce è un po' scarsa E nulla Vi ho registrato questo vlogazzo Io vi do l'appuntamento ad un prossimo video Ciao Ciao Ciao